Troppo forte Conegliano, una squadra che non sa perdere e che da ben 56 giornate consecutive guida la classifica. Ma il punteggio di 3-0 è fin troppo pesante per la Savino del Bene Scandicci, che ha saputo dare del filo da torcere alla capolista della massima serie del volley femminile, confermando di essere un'avversaria di primissimo piano. Lo spettacolo è stato degno delle aspettative, visto il valore stellare delle giocatrici in campo. A partire dalla sfida tra le due è opposto che ha illuminato la scena. Da una parte la svedese Haak, top scorer con 27 punti, dall'altra Antropova con 26 palloni messi a terra. Per restare ai numeri, le due squadre si sono quasi equivalse anche in ricezione a muro. A fare la differenza sono stati dettagli con Conegliano, che ha saputo mettere a terra tutti i punti decisivi. 25-20, 25-23, 30-28. I parziali che hanno consegnato la contesa alla formazione veneta. Nonostante la buona prestazione per la Savino del Bene, suona un primo campanello d'allarme. Le scandicesi hanno perso due delle ultime tre sfide e nel prossimo turno ospiteranno Berga.